Ciao e benvenuto di nuovo su Macraris, sono Aristide Lappa. In questa esercitazione JavaScript vediamo come implementare una funzione che prende come argomento un numero e restituisce un elenco di numeri primi, minori o uguali al numero fornito. Cos'è un numero primo? Un numero primo è un numero intero positivo maggiore di 1, divisibile solamente per 1 e per se stesso. Esempi di numeri primi 2, 3, 5. Perciò alla nostra funzione se forniamo ad esempio come argomento il valore 5 il risultato che lui ci restituirà sarà un array, una matrice all'interno del quale avremo 2, 3, 5. La soluzione che ti propongo è la seguente. Definiamo una function expression, const, primi, assegniamo a primi la nostra funzione e scelgo la notazione function arrow. Qui abbiamo un solo argomento e sarà il num limite che forniamo oppure possiamo preferire num fornito come argomento. Arrow notation e qui apriamo il nostro blocco per definire la nostra funzione. All'interno di questa funzione vogliamo prendere tutti i numeri minori di quelli che sono stati forniti e per fare questo andremo ad eseguire un for loop for definiamo let num sarebbe per numero diamo direttamente numero così è ben chiaro assegniamo il valore 2 perché abbiamo detto che i numeri primi saranno maggiore di 1 interi maggiore di 1 punto virgola andiamo ad implementare la condizione di questo for loop e sarà che numero sarà minore o uguale al num fornito poi aggiorniamo la variabile numero con numero più più ok cosa facciamo all'interno di questo for loop abbiamo il numero supponiamo che sia il numero ad esempio 4 a quel punto di iterazione vogliamo sapere se il numero 4 è un numero primo per saperlo dobbiamo andare ad interrogare tutti i numeri che sono minori di 4 a questo punto vuol dire che dobbiamo fare un altro loop un loop all'interno di un altro loop come abbiamo visto in un esercizio precedente definiamo definiamo for e qui abbiamo un altro loop siccome il primo il numero primo è divisibile possiamo chiamare questa variabile all'interno del secondo loop divisore let divisore e segniamo che divisore uguale a 2 poi ti spiego il motivo punto virgola la condizione di iterazione dovrà controllare fino a divisore minore di numero in questo caso nel nostro esempio sarebbe minore di 4 strettamente minore e poi aggiorniamo divisore più più perché abbiamo messo 2 e perché qui abbiamo semplicemente un minore e non minore uguale perché partiamo dal presupposto che il numero che viene fornito per definizione è divisibile per 1 e è divisibile per se stesso essendo divisibile per 1 per questo mettiamo qui che non dovrà più andare a testare se 4 è divisibile per 1 ma partirà da 2 poi qui abbiamo divisore è minore del numero fornito non uguale perché 4 è già divisibile per se stesso perciò qui mettiamo minore e con l'esempio di 4 si fermerebbe a 3 siamo all'interno di questo loop e quello che dobbiamo verificare per tutti gli elementi prendendo sempre l'esempio che la nostra iterazione è arrivata a 4 dovrà andare a vedere se 2 è un divisore di 4 e se il risultato di quella divisione è 0 e se incontra almeno un numero un divisore esattamente che dà il resto della divisione 0 a quel punto non è un numero primo andiamo ad implementarlo qui abbiamo if all'interno inseriamo qui è il numero perché è il numero della prima iterazione per cui inseriamo numero e andiamo a testare se numero è divisibile per il divisore per ogni iterazione minore di numero divisore se è divisibile vuol dire che con modulo darà 0 come risultato e se così è noi dobbiamo catturare il fatto che è divisibile per cui andiamo qui a dire count oppure conta contatore sarebbe meglio contatore più più vuol dire che all'inizio di questo loop quando entro qui prima di iterare col mio 4 devo andare a inizializzare una variabile contatore a cui assegno sempre il valore 0 quando siamo qui all'interno di contatore più più non abbiamo bisogno che faccia tutta l'iterazione immaginiamo per esempio di avere un numero 10 quando prende 10 fa 10 diviso 2 lì è divisibile a questo punto invece di continuare lo facciamo fermare perché non ha più senso andare a controllare 10 diviso 3 diviso 4 quando sappiamo già che è divisibile per almeno un altro numero oltre che se stesso è 1 perciò qui inseriamo parentesi graffe visto che inseriamo più istruzioni in questo blocco di if andiamo qui dopo contatore se trova almeno uno vuol dire che non è pari perché all'interno di questo for questo secondo for loop andiamo a testare tutto quello che c'è in mezzo qui per uscire dal loop utilizziamo il break nel caso in cui non abbia trovato un divisore vuol dire che quel numero da qui esci di qui se non ha trovato niente vuol dire che effettivamente il numero che abbiamo fornito qui è un numero pari e come facciamo a catturarlo? andiamo qui in questo loop siamo nel primo loop e inseriamo if contatore uguale a 0 vuol dire che qui non ha trovato niente che gli desse il valore 0 da questa operazione a quel punto noi dobbiamo assegnare quel numero alla nostra variabile di array quella variabile la dichiariamo all'inizio qui do il nome poi vado in alto a definirla array num primi punto push e qui inseriamo il numero ok e il processo riparte qua dobbiamo andare a definire questo array num all'inizio dobbiamo all'inizio della nostra funzione dichiarare questa variabile come array vuoto con la notazione array literals ok perfetto e ad ogni interazione quando trova un primo va ad inserire con questo metodo push all'interno di questo array num primi quando il tutto è terminato noi dobbiamo restituire il valore andiamo qui alla fine della nostra funzione e facciamo un return return e cosa restituiamo restituiamo semplicemente al num primi perfetto dovremmo essere a posto con la nostra funzione possiamo andare a testare console.log e qui inseriamo ad esempio prima richiamiamo la nostra funzione espressione funzionale e passiamo ad esempio il valore 10 punto virgola andiamo a salvare ok qui da un errore vuol dire che abbiamo inserito ci manca un blocco di parentesi graffe perché all'interno di questo for abbiamo diverse istruzioni dobbiamo andare qui ad inserire questo ok devo selezionare tutto questo e lo portiamo in alto perfetto ora non si dovrebbe più lamentare ok il risultato qui ci da 2 3 5 e 7 come numeri primi e questa è la soluzione a cui sono arrivato poi guardando in giro ho visto altre soluzioni migliori ad esempio quella di mosh e propone praticamente invece di avere qui let contatore uguale a 0 potevamo anche qui definire una variabile true boolean nel senso che qui contatore attribuiamo true se qui questa variabile questo è vero che non è un numero primo a questo punto invece di restituire contatore più più va a restituire la negazione in questo modo qui deve testare semplicemente se contatore per cui lo forza a diventare boolean e qui if contatore dovrebbe restituirci lo stesso risultato andiamo a verificare ok qui c'è un piccolo problema allora qui ho fatto un piccolo errore perché qui restituisco la negazione di contatore ma non il valore non viene riassegnato per cui invece di questa negazione con punto esclamativo andiamo qui semplicemente a dire che questo è false salviamo e qui abbiamo esattamente il risultato di prima ti ho forviato un po' con la negazione ma in realtà dovremo riassegnare il valore qui di contatore a false in modo che quando andiamo qui a richiedere qual è il valore e con l'espressione boolean che ci restituisca il vero valore contatore uguale a false e abbiamo lo stesso risultato la funzione è funzionante siamo soddisfatti vediamo come possiamo migliorare ulteriormente il nostro codice la nostra funzione in modo da renderla molto più leggibile molto più capibile solitamente quando siamo in situazioni di loop nidificati è il segnale che possiamo creare una funzione a parte e poi richiamarla creando diverse funzioni abbiamo modo di suddividere in piccoli compiti quello che la nostra funzione globale va a fare ed è molto facile poi se qualcosa non funziona andare a vedere dove ci sono degli errori per cui assegniamo a ogni funzione un compito particolare andremo a così una funzione che chiede semplicemente di sapere se il numero che viene fornito è primo vado qui sotto e definisco questa con la function declaration 6' prende come argomento numero e qui andiamo ad implementare la funzione 6' possiamo prendere tutto questo che è il nostro for nidificato e inseriamo all'interno del blocco della funzione 6' perfetto vediamo quale modifiche possiamo apportare qui per rendere questa funzione agibile funziona esattamente come prima qui dobbiamo restituire il valore alla fine di questa funzione dobbiamo fare un return restituiamo il valore di contatore ok andiamo nella nostra funzione iniziale qui e qui non ci chiediamo più se contatore chiederemo direttamente se 6' richiamiamo qui la funzione 6' e all'interno gli diamo l'argomento di questo loop che è numero ok qui adesso abbiamo una singola istruzione all'interno di questo for loop vuol dire che questo rumore di parentesi graffe di questo for possiamo togliere ok andiamo a testare nuovamente la nostra funzione adesso abbiamo una funzione primi una sotto funzione 6' 6' primo restituisce solo se l'argomento che abbiamo fornito è un numero primo per cui restituisce quel valore è true oppure false quello che viene assegnato al contatore rientra qui e all'interno di questo loop fa di nuovo la domanda e se questo restituisce un false non lo assegna questa matrice se invece restituisce un true vuol dire che è un numero primo salviamo e il risultato è esattamente quello di prima se cambiamo a 15 e salviamo abbiamo i numeri primi possiamo ulteriormente pulire questa funzione soprattutto 6' quando noi andiamo in 6' vediamo che qui in corrispondenza di questo for loop abbiamo contatore uguale false e poi qui abbiamo il break a questo punto non ci serve neanche più avere un break siamo all'interno della funzione primo se vede che almeno un divisore dà il valore vero a questo punto non deve neanche più assegnare il valore a contatore e ci può restituire direttamente false perciò se noi andiamo qui a dire che quando poi utilizziamo return vuol dire che esce da questo blocco della funzione possiamo perciò andare a commentare questo oppure togliere del tutto contatore lo togliamo del tutto perché non abbiamo più bisogno di registrare il suo valore in memoria e quella funzione restituisce semplicemente false perché ci basta solo sapere che uno è divisibile per poi uscire dalla funzione e sapere che non è un numero primo perciò abbiamo qui return false nel caso e qui se non ha trovato niente se questo blocco non è entrato vuol dire che ci restituisce neanche più qui contatore ma restituisce true a questo punto l'inizializzazione di questa variabile contatore non ci serve più andiamo a togliere ok e qui abbiamo semplicemente un'istruzione all'interno del blocco if avendo solo un'istruzione all'interno del blocco if possiamo andare a togliere questo rumore di parentesi graffe possiamo anche portare questo sulla stessa riga perfetto e qui abbiamo un codice molto più pulito di prima ora possiamo andare a eseguire nuovamente la nostra funzione per vedere se è tutto a posto salvo abbiamo ancora gli stessi risultati di prima 20 salvo perfetto funziona ancora come prima e queste due funzioni sono nettamente più chiare più leggibili rispetto a quello che avevamo implementato prima ti ringrazio per l'attenzione e a presto su Macraris con l'attenzione Grazie a tutti